38 ordinanze di custodia cautelare tra carcere e domiciliari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza a conclusione di una indagine coordinata dalla DDA di Lecce che ha stroncato una presunta organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, all'usura, alle estorsioni e al riciclaggio di denaro. Ad alcuni degli indagati è contestata l'associazione mafiosa, sono coinvolti anche esponenti della vecchia criminalità tarantina. Con l'operazione odierna, gli inquirenti ritengono di aver smantellato il presunto clan Cesario. A capo del Sodalizio c'è stato sino alla sua morte per malattia avvenuta il 28 marzo 2014, Giuseppe Cesario, detto Pelè. Era stato condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa e aveva ottenuto alla fine del 2013 la misura alternativa dei domiciliari per potersi curare. Negli ultimi periodi l'organizzazione è stata diretta da suoi accoliti. Oltre all'ex boss deceduto che figura nell'ordinanza di custodia cautelare, ci sono altri elementi di spicco della criminalità tarantina come Orlando Doronzo e Nicola De Vitis. Il GIP ha respinto altre 30 richieste di misure restrittive. L'Andrangheta è forse la più robusta e la più pericolosa delle associazioni di tipo mafioso che ci siano sul nostro territorio. Ne abbiamo trovato tracce anche all'estero e al nord dell'Italia. Preoccupati per Taranto? Preoccupati per Taranto, secondo me è una preoccupazione che va ridimensionata ma che deve continuare ad esserci che dovrebbe incidere sull'atteggiamento dei cittadini, dovrebbe incidere sulla disponibilità a collaborare perché non ci può essere assuefazione, non ci può essere principalmente il passaggio dalla assuefazione che già è un aspetto negativo a quello della condivisione perché se si arriva alla condivisione, al consenso sociale abbiamo smesso di occuparci di noi.